Buongiorno, Giuseppe Caruso, intervengo come privato cittadino e ovvero forse necessario come associazione Volo, come rappresentante dell'associazione Volo, anche se non credo che sia così, perché è un consiglio comunale aperto ai cittadini. Vi mostro una fotografia, penso che la vediate anche se non è molto grande. La zona rappresentata in azzurro è la zona di rispetto attorno alla fiumara, attorno al torrente. In quella zona, come potrete vedere, ricade già per l'intero l'impianto esistente. Mi rivolgo principalmente ai consiglieri, non ai rappresentanti della regione delle istituzioni, perché so che là la decisione è già stata presa. A me quello che interessa è che siano i consiglieri oggi, in rappresentanza di tutti noi sidernesi, a dire che cosa vogliono veramente fare di quel territorio e che lo dicano in maniera aperta, affinché resti, come ho scritto qualche tempo fa. Quella è l'unica zona verso la quale si può espandere siderno, soprattutto in previsione del progetto di conurbazione di cui tanto si parla. Noi abbiamo la città del mare che verrà realizzata 500 metri a valle e 500 metri sopra ci mettiamo un impianto che sarà una ferita mortale per quelle che sono le ambizioni turistiche o comunque espansionistiche della città. Volete questo? Allora fatelo, votatelo. Per me questo è un assurdo. È un assurdo perché viene realizzato un impianto in un luogo dove non può essere realizzato e invece di pensare di correggere il tiro e quindi di spostarlo in un luogo idoneo, entro 150 metri siamo dalla torrente, in zona dove non si può costruire, pensiamo di raddoppiarlo addirittura. Lo chiamiamo relamping, lo chiamiamo ampliamento. Non è nemmeno un ampliamento, è una nuova costruzione. Come qualcuno mi insegna l'ampliamento non dovrebbe superare il 20% del preesistente. E qua siamo al raddoppio. Non voglio discutere di tematiche relative alla salute dei cittadini, ci sono stati altri che l'hanno fatto. Io vi dico, quando andrete a votare pensate al fatto che voi ponete un freno a quello che lo sviluppo della città alla quale dite di essere tanto legati, alla quale dite di voler tanto bene e proclamate. Noi lavoriamo per il bene di Siderno, pensateci bene prima di votare in una certa maniera. Grazie. Grazie.